Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpalo, oggi giovedì e domani venerdì tempo stabile e soleggiato su gran parte della regione con temperature massime stazionarie, fine settimana con schierite ma anche più nubi e sabato più vaschi sui rilievi. Il dettaglio oggi giovedì 4 maggio in prevalenza sereno, locali addensamenti pomeridiani sui rilievi e zone interne, venti deboli meridionali e di direzione variabile, mare poco mosso, quasi calmo, temperature massime stazionario in lieve calo, lungo la costa tra 21 e 24 gradi, nelle zone interne tra 21 e 25 gradi, domani venerdì 5 maggio, nuvolosità irregolare sui rilievi e zone interne, più compatta nelle ore pomeridiane, sereno poco nuvoloso sui ritorali, venti deboli meridionali e di direzione variabile, locali regimi di brezza, mare calmo poco mosso, temperature pressoché stazionarie, minime lungo la costa intorno 15-16 gradi, nelle zone interne tra 7 e 10 gradi, massime lungo la costa tra 20 e 23 gradi, nelle zone interne tra 21 e 25 gradi, dopodomani sabato 6 maggio, mattino in prevalenza soleggiato, addensamenti pomeridiani sui rilievi, con possibili piovaschi associati, nubi diffuse in aumento dal tardo pomeriggio, venti deboli meridionali, variabili o regime di brezza dal pomeriggio, mare in prevalenza calmo, temperature stazionario in lieve aumento, minime lungo la costa tra 15 e 17 gradi, nelle zone interne tra 5 e 11 gradi, massime lungo la costa tra 20 e 23 gradi, nelle zone interne tra 21 e 26 gradi. È tutto, seguite gli aggiornamenti sul sito ufficiale Arpal, sui social d'agenzia, anche sul canale Telegram e ricordate di scaricare l'app Meteo 3R disponibile su Google Play e Apple Store. A risentirci!